Forza, io sono qui per portare un saluto a tutti quelli di Catanzaro, quelli tifosi che quest'anno hanno un pochettino sofferto. Quindi il nostro presidente ci ha detto che porterà qualche patina in più perché la squadra c'è, perché quest'anno noi abbiamo un bellissimo allenatore sia di prima che di seconda. Quindi saranno tutti contenti quando la squadra è tutta bella in mezzo a mezzo perché ci sono bravi ragazzi e un paio di acquisti che fa il nostro presidente e porterà avanti il nostro allenatore che è bravissimo. Io lo seguo e mi va tanto bene. Ok, grazie Vito. Vado a Catanzaro. Forza Catanzaro. Un abbraccio con Vista. Grazie Vito. Il mio abbraccio mi sembra io. Ok. Grazie Vito. Ecco. Buona stai. Bellissimo. Stavolta è stata bellissima Vito, bravo. Grazie. Grazie Vito a te. Mi ha fatto pure l'entrata.